Previsioni per sabato 24 giugno. Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi, con schiarite dalla mattinata a partire dal settore settentrionale. Temporali sparsi anche di forte intensità durante la notte e in mattinata, in esaurimento nel corso della giornata. Temperature in diminuzione, venti di brezza tesa o moderati, mare mosso. Grazie!